Vi informiamo che domani alle ore 17.05, nell'ambito delle manifestazioni organizzate per ricordare Anna Magnani nel decennale della morte, andrà in onda una sintesi dello spettacolo Serata per Anna, trasmesso lunedì in diretta da Cinecittà. Tra qualche istante andrà in onda il film di Alan Pakula, Tutti gli uomini del Presidente. Per il ciclo Scuola e Società, a cura del Dipartimento Scuola e Educazione, va in onda la prima puntata dal titolo La trasformazione delle funzioni direttive e docenti. Vi ricordiamo che la seconda puntata andrà in onda venerdì prossimo, 7 ottobre, a mezzanotte e 15, sempre sulla rete 1.